secondo me i mondi i mondi più evoluti di questo perché io credo che ci siano mondi evoluti di questo anzi è sicuro anzi è sicuro che ce ne siano l'ho detto anche nei miei passati i precedenti video però ci sono mondi un gradino più evoluti di questo che sono un po diciamo più evoluti di questo dove le persone sono più evolute di noi gli esseri intelligenti che vivono sono più evoluti di noi e secondo me questi mondi più evoluti sono mondi dove l'alimentazione è esclusivamente vegetariana trattino erbivora cioè secondo me in questi mondi tutti gli animali e tutte e tutti gli esseri intelligenti che ci vivono sono tutti vegetariani ed erbivori vegetariani gli esseri intelligenti ed erbivori gli animali sono mondi dove l'alimentazione non non fa soffrire nessuno cioè non non è come qui che siccome i carnivori devono mangiare la carne sono costretti ad uccidere e a versare sangue e a versare sangue innocente per potersi nutrire vedi il leone che uccide la gazzella insomma tutta la violenza tutta la che c'è in natura dove scorre sangue ogni giorno perché i carnivori devono devono mangiare e naturalmente anche noi anche noi esseri umani che siamo che siamo più o meno onnivori più o meno onnivori perché comunque non possiamo mangiare proprio tutto tutte le tutte le cose che stanno in natura possiamo mangiare solo certe piante certi animali comunque siamo diciamo che siamo onnivori anche noi per mangiare la carne uccidiamo versiamo sangue causiamo sofferenza agli animali che uccidiamo ma gli animali non li uccidiamo solo per mangiare gli animali li teniamo li teniamo in gabbia anche per poterli guardare quindi per tenerli di veduta e anche per tenerli nelle nostre case quindi per tenerli di compagnia come compagnia quindi non solo li uccidiamo per mangiarli li incateniamo anche per per veduta o per compagnia io credo io credo che un mondo dove vi siano esseri che per mangiare debbano uccidere altri esseri siano mondi non molto evoluti come come lo è questo nei mondi evoluti secondo me si mangia solo erba erba e verdura nei mondi ancora più evoluti non si mangia proprio perché perché quegli esseri si nutrono di energia di altre cose che diciamo cose ancora più evolute e quindi e quindi secondo me molta molte guerre molta sofferenza molte malattie in questo mondo sono dovute proprio al fatto che molti esseri viventi su questa terra si nutrono di altra carne di altri esseri viventi in carne e ossa che devono uccidere che sono costretti ad uccidere secondo me quando questo mondo era più evoluto di quanto lo è lo sia adesso cioè nella famosa nella leggendaria atlantide nella leggendaria atlantide non non esistevano i carnivori non esisteva il mangiare la carne versare sangue il causare sofferenza dolore non esisteva la violenza secondo me anche lì erano tutti erbivori e vegetariani e quelli gli alieni gli alieni che ci crearono i nostri originali genitori ci crearono tutti erbivori perché anche loro sono erbivori sono vegetariani poi quando quando e noi vivevamo vivevamo insieme a loro nella nella leggendaria atlantide vivevamo con i nostri creatori in pace in armonia con gioia eravamo felici i nostri creatori ci davano tutto ciò che noi che a noi serviva non c'erano guerre non c'era violenza non c'era sangueversato e non c'era odio però poi accadde un qualcosa che diciamo ruppe ruppe questo idillio questo idillio paradisiaco di vita di vita di vita armoniosa di vita buona di vita felice probabilmente vennero dallo spazio altri alieni alieni non proprio non proprio non proprio buoni non proprio evoluti probabilmente carnivori che vennero a che distrussero atlantide ci separarono dai nostri creatori e scacciarono i nostri creatori e si impadronirono della terra e probabilmente da diecimila cinquecento anni noi siamo sotto il dominio di questi che potrebbero essere gli Elohim biblici gli Elohim biblici che ci tengono diciamo sotto scacco ci tengono sotto il loro dominio e probabilmente questi Elohim modificarono geneticamente molti animali esistenti sulla terra e li resero carnivori li resero carnivori restero carnivori anche noi uomini perché noi non eravamo onnivori noi eravamo vegetariani assolutamente vegetariani resero anche noi in parte carnivori rendendoci diciamo onnivori e quindi da 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 allora in poi sulla terra è venuta è venuta la la violenza l'uccidere l'uccidere l'altro per potersi nutrire perché è questo ciò che fanno i carnivori ogni giorno gli animali carnivori e lo facciamo anche noi e da e da e da queste cose è venuta sono venute anche le malattie le guerre la 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 brama la brama di dominio sull'altro la brama di sangue la brama di di mangiare carne di versare sangue perché questi esseri secondo me si nutrono proprio della sofferenza che i carnivori causano agli altri esseri viventi in carne e ossa quando quando li uccidono per potersi per poterli mangiare quindi i carnivori i carnivori uccidono per mangiarsi la carne e le ossa degli altri animali nel frattempo e anche sangue nel frattempo questi elohim si nutrono della sofferenza si nutrono della sofferenza che i carnivori causano agli altri agli altri animali che uccidono probabilmente si nutrono anche anche di sangue e forse anche di carne azzardieri 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 di ipotesi che forse si nutrono anche del nostro sangue oltre naturalmente della nostra sofferenza il sangue umano e la sofferenza umana ecco perché esiste la leggenda la leggenda dei vampiri che dei vampiri che è dei lupi mannari che si nutrono di sangue umano di sangue umano quindi nei mondi evoluti morale della favola secondo il mio punto di vista si mangia erba si mangia solo verdura legumi verdura gli animali gli animali vengono rispettati non vengono mai uccisi potrebbe essere che si beva anche il latte si mangiano si mangiano anche le uova però non si mangia assolutamente carne nei mondi ancora più evoluti quegli esseri quegli esseri non mangiano nemmeno nemmeno i vegetali si nutrono di energia probabilmente si nutrono di amore di energia che e di energia che diciamo che permia e muove tutto l'universo energia che è invisibile ai nostri occhi ma della quale siamo tutti fatti siamo tutti siamo tutti composti e quindi e quindi i mondi meno evoluti di questo di questo nostro azzarderia dire che sono mondi ove sono tutti carnivori gli esseri sono tutti carnivori non esistono gli erbivori e quindi in quei mondi il sangue scorre scorre a fiumi e la violenza è all'ordine del giorno più più molto di più che in questo mondo saranno miei pensieri assurdi ma io la vedo così e quindi cerchiamo in tutti i modi di di mangiare poca carne e di nutrirsi soprattutto di di vegetali di vegetali di legumi di latte di uova non che dobbiamo essere vegani ma vegetariani però che possono benissimo bere il latte delle mucche mangiare le uova delle papere o delle galline o dello struzzo e insomma cercare di di nutrirci dobbiamo cercare di nutrirci senza causare la sofferenza agli altri esseri senza causare la sofferenza agli altri esseri noi umani che possiamo scegliere i carnivori purtroppo il leone la tigre i cocorrilli non possono scegliere loro sono condannati a mangiare carne sempre carne almeno fino fino a quando fino a quando questo mondo non ritornerà ad essere come la leggendaria atlantide non ritornerà ad essere un paradiso e quindi tutti torneremo a consumare solo e sempre carne o addirittura o addirittura evolveremo evolveremo ad saremo talmente voluti che non mangeremo nemmeno le verdure mangeremo ci nutriremo di energia di energia spirituale di energia di amore che permea tutto l'universo e che è dio e che è parte di dio che promana da dio energia amo amore spirito che vivifica che vivifica tutti gli esseri viventi di tutto l'universo